Ci risiamo, i furbetti del cartellino tornano a farsi beccare. Questa volta i dipendenti pubblici sono del piccolo comune di Cosoleto, nella piana di Gioia Tauro, con solo 842 abitanti, ma con sei impiegati del comune abbastanza scavezza colli. I carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Palmi a seguito di una specifica richiesta avanzata dal magistrato Enrico Barbieri nei confronti di sei dipendenti comunali che erano soliti assentarsi dai locali dell'ente per recarsi, come sempre avvenuti in questi casi, nella vicina piazza oppure per curare interessi privati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di falsa attestazione o certificazioni, truffa aggravata ai danni dello Stato, nei confronti dei quali il Tribunale di Palmi ha ravvisato esigenze cautelari tanto da sottoporli all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le indagini avviate dai militari della stazione di Cosoleto nel 2015 sono state svolte mediante servizi di osservazione e acquisizione documentale e l'installazione di telecamere in prossimità dell'orologio marcatempo e dell'ingresso al Palazzo Comunale, al fine di monitorare le vidimature dei beige e le entrate ed uscite dei dipendenti comunali. Dalle immagini raccolte è emerso che molti dipendenti comunali non rispettavano l'orario di lavoro, allontanandosi per motivi non pertinenti all'attività di servizio, oppure timbravano il cartellino marcatempo per sé e per altri, per poi allontanarsi dall'ufficio per svolgere proprie funzioni private. Il fenomeno dell'assenteismo era tanto dilagante che alcuni soggetti timbravano il cartellino anche per chi era legittimamente assente, ad esempio per ferie, tanto era radicata questa usanza fraudolenta. Altri soggetti sono stati notati al di fuori delle loro abitazioni in giornate in cui la loro assenza dal posto di lavoro era sì giustificata, ma con certificati medici che attestavano patologie fisiche. La condotta degli indagati risulta così tanto sfacciata e sintomo di un diffuso senso di impunità, tanto che gli stessi non usavano alcuna cautela per coprire le proprie assenze. Il loro atteggiamento è mutato solo dopo essersi resi conto di essere oggetto di attenzione da parte dei carabinieri, ma dopo un iniziale freno alle proprie condotte illecite hanno ripreso le vecchie abitudini. Dalle indagini condotte dai militari dell'arma di Cosoleto è emerso che non solo i dipendenti erano soliti assentarsi durante l'orario di lavoro, ma avevano anche scogitato un sistema per alterare i cartellini di presenza, manomettendo l'apparecchiatura per la timbratura degli stessi beige.